Si usa dire nei tempi non sospetti, quindi quando a quasi tutti conveniva dire che era una figata internet per quanto riguardava l'idea di poter divulgare la propria musica io sono sempre stato un po' bastiamo contrario forse ma non perché desideravo esserlo, perché non ho mai pensato che fosse positivo per la musica diventare gratis anche soltanto per il fatto che mi ero fatto così tanto culo per cercare di essere musicista rock in Italia che è una delle avventure più strane e fuori di testa che uno si possa mettere appunto in testa ci vuole dedizione, ci vuole la fortuna giusta, ci vuole la capacità giusta, il talento giusto tutta una serie di cose e non vedo perché dovrei accettare l'idea che non è un problema se la cosa diventa gratis rock tv in onda su sky canale 718 e in free streaming su tutti i device su live stream.com slash rock tv slash live